benissimo possiamo iniziare allora oggi siamo siamo qui alla riunione della terza commissione questa riunione c'è stata chiesta dalla dai consiglieri ministrale di vincenzo quindi lascerei a loro la parola insomma per introdurre l'argomento ci tengo intanto a sottolineare anche la presenza della dottoressa Stefania Raffini responsabile del settore welfare di terre di pianura che ringrazio ovviamente per la sua presenza come la presenza ovviamente di tutti i consiglieri detto questo darei inizio alla commissione e la parola a consigliere ministrale direi grazie presidente sì questa commissione è stata chiesta ovviamente a causa di quel fatto increscioso quel migrante che ha tentato violenza un migrante che risiede o risiedeva spero da noi a Granarolo in via Irma Bandiera quindi a questo punto ovviamente abbiamo chiesto anche a causa di questo fatto questa commissione e partirei secondo me dal primo punto dove chiediamo la situazione attuale dei migranti nel nostro territorio quanti sono e dove sono ospitati posso chiedere una precisazione quando parliamo di migranti intendiamo migranti in senso generale cioè persone non di nazionalità italiana che sono presenti sul territorio di Granarolo o parliamo delle persone che sono ospitate nell'ambito dei CAS o delle altre strutture di accoglienza i gruppi appartamento e quant'altro sì sindaco sì migranti che sono ospitati ovviamente in queste strutture sì su questo credo che stranieri integrati che sono nel nostro territorio certo certo no no era per capire un attimo la coppa che la definizione migrante è una definizione molto generica in questo caso stiamo parlando anche di un richiedente asilo cioè nel caso di quel fatto non solo un migrante ma anche un richiedente asilo giusto per precisare vedo la vice sindaca grazie presidente buonasera a tutti a tutti che state seguendo e partecipate a questa commissione io farei sì in base insomma a tutte le domande le richieste insomma fatte per fare questa commissione farei così un po' l'introduzione generale appunto come diceva il sindaco per chiarire meglio insomma di cosa stiamo parlando quindi se capisco bene parliamo del sistema di accoglienza integrazione per richiedenti asilo e rifugiati che ai quali insomma una progettualità nazionale alla quale anche il nostro territorio ha aderito e aderisce insomma tutt'oggi quindi il sistema dei SAI e dei CAS che sono due adesso faccio un po' così una introduzione generale perché di questa abbiamo già fatto una commissione su Casamocaite che nello specifico è una progettualità condivisa fra il ministero e la prefettura e quindi insomma facevo così un po' una panoramica generale poi lasciare la parola dottoressa Raffini che nello specifico insomma può essere più sul piano tecnico insomma più entrare più nel dettaglio quindi la progettualità rispetto all'accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati parte insomma negli anni 2000 da parte del ministero dell'interno condiviso con l'ente locale e affidato come sistema d'anci è un sistema che ha fondi nazionali quindi fondi ministeriali e è formato su due specifiche appunto direttrici cioè uno quello di prima accoglienza che è quello assicurato dal ministero dell'interno tramite le prefetture appunto i CAS e una di seconda accoglienza disposta invece con strutture gestite dagli enti locali e queste questa diversa tipologia appunto nel nostro territorio presente abbiamo visto e abbiamo già parlato in altre commissioni della di casa mocaite e nel corso del tempo c'è la progettualità insomma si è cambiata ecco però tendenzialmente sono sempre progetti che nel nostro territorio sono titolare della progettualità in area metropolitana il comune di bologna che nel 2017 appunto ha commentato il progetto che prima si chiamava sprarre poi si chiamava si proimi oggi si chiama SAI cioè sistema di accoglienza integrazione sugli altri acronimi non li sto a sciogliere comunque insomma la progettualità era sempre analoga e nelle tre differenti tipologie che sono quello ordinario quello per minore e stranieri non accompagnati questo in città metropolitana e non è che il nostro comune aderisca a tutti e per il disagio mentale e disagio sanitario questa progettualità nel 2017 abbiamo coinvolto il comune di bologna come ente capofila poi si sono aggregati hanno aderito 41 comuni del territorio metropolitano fra cui anche noi quindi una progettualità che è da qualche anno sul nostro territorio originariamente era c'era un accordo operativo tra comune di bologna gestito da aspe bologna l'ente di gestore è sempre stato aspe bologna che un'altra asp rispetto alla nostra asp distretto pianura est quindi l'asp della città di bologna è stato soggetto delegato dal comune di bologna e coordinato dalle unioni e dai comuni aderenti è stato istituito nel 2019 direi insomma comunque una fase successiva un gruppo di lavoro coordinato dal comune di bologna attraverso gli uffici e dagli uffici di piano del territorio metropolitano quindi nel nostro caso afferente al distretto pianura est e anche in questo caso da aspe bologna da comune di bologna che ha comunque tenuto la gestione operativa e questo gruppo di lavoro e ha un raccordo tecnico e operativo che passa per la conferenza territoriale sociale sanitaria metropolitana questo per dar conto che insomma è un sistema nazionale ma che sul nostro territorio era articolato in città metropolitana con una rete coerente insomma una rete diffusa su tutta su tutto il territorio e i dati aggiornati di questo sistema sono anche reperibili online se andate sul sito bologna carres sai metropolitano c'è proprio il quadro aggiornato a fine settembre 2023 quindi aggiornato e da questa da questo da questa panoramica possiamo insomma dedurre che in pianura est abbiamo cinque quindi in tutto il distretto pianura est abbiamo 54 strutture con 515 posti a Granarolo nello specifico sono 37 posti sai e 32 ma è un altro caso i posti invece casse e suddivisi ecco adesso questo nello specifico può magari dettagliarci se lo ritiene anche ci sono anche insomma questioni legate ovviamente alla privacy ma poi sul piano più specifico darei la parola alla dottoressa Raffini io so che ci sono sei appartamenti sul nostro comune e gestiti questo penso di poterlo insomma dire non credo di essere legata alla privacy da diversi soggetti fra cui arci open group mondo donna che non gestisce solo il casa mocaite e l'arco di noè ecco mi fermo qui nel senso che mi sembra che sul piano politico insomma di aver dato così un po' una una panoramica e nello specifico lascio la parola dottoressa Raffini che sicuramente anche sul piano tecnico insomma magari può anche correggere qualche mia magari imprecisione in questo in questa ricostruzione di questo quadro grazie si è prenotato il consigliere minissale per poi lasciare la parola dottoressa grazie presidente intanto ringrazio l'assessore bertagnoni per averci illustrato la tipologia di ospitalità dei migranti e richiedenti asilo e anche d'averci detto anche perché richiesto nel primo punto 37 posti sai però chiederei ovviamente oltre al chiederei di seguire ovviamente l'ordine del giorno nel senso ci illustrate tutto quello che volete ma poi partiamo a dareci le risposte alle domande che abbiamo fatto e quindi insomma direi che la situazione attuale dei migranti sul nostro territorio quanti sono e dove sono ospitate grazie prego dottoressa allora intanto buonasera a tutti e confermo il quadro che ha già presentato l'assessore e quindi per quanto riguarda il sistema di accoglienza integrazione quindi il sistema assai abbiamo sul nostro territorio 37 posti dislocati in sei alloggi di cui gli indirizzi consigliere se crede li possiamo fornire in separata sede non in pubblico però ecco quindi sono sei appartamenti presenti sul territorio che ospitano complessivamente mettono a disposizione questi 37 posti sai mentre invece quello che riguarda il sistema di prima accoglienza quindi CAS è un sistema che non è gestito dal lente locale come ha ben rappresentato il vice sindaco prima ma è gestito direttamente dalla prefettura e su quello diciamo noi siamo informati con cadenze diverse e in maniera meno precisa meno diciamo così continua proprio perché la tipologia di accoglienza è una tipologia di prima accoglienza di accoglienza fatta in emergenza per cui è anche diciamo così veloce nel suo realizzarsi no quindi non è all'interno di un sistema più strutturato e preciso probabilmente non sto rispettando l'ordine del giorno diciamo nel nella successione dei punti me ne scuso ma per vedere voi perché non mi piace parlare con uno schermo non ce l'ho sotto quindi mi scuso di questo eventualmente consigliere mi mi riporterà nell'ordine corretto e però allora per quanto riguarda i costi come aveva ben anticipato l'assessore non sono costi posti a carico dei bilanci comunali ma sono fondi nazionali in particolare il fondo nazionale delle politiche e servizi di asilo dal 2019 è così denominato quindi è un fondo nazionale e il sistema di accoglienza sai è stato da ultimo revisionato è stato oggetto di successive normative nel corso del tempo la ultima del 2020 e ha disciplinato sia coloro che possono essere i beneficiari di questa tipologia di accoglienza e sono i minori non accompagnati i richiedenti asilo però solo limitatamente ad un numero di posti che vengono messi a disposizione di volta in volta sui nell'ambito della della definizione della programmazione annuale che i ministeri fanno i soggetti richiedenti protezione internazionale e poi ci sono delle altre casistiche specifiche vi faccio degli esempi le donne vittime di tratta e gli adulti salvati diciamo così dalla schiavitù e quindi ci sono proprio le persone con gravi patologie quindi ci sono altre casistiche di soggetti che sono diciamo così definite in modo un po' a tecnico i cosiddetti ultra fragili quindi all'interno della fragilità vengono riconosciute ulteriori categorie di persone che sono fragili ulteriormente rispetto già alla fragilità di essere diciamo soggetti strani rispetto al quindi non italiani stranieri e non appartenenti alla comunità europea quindi soggetti extra way e queste persone sono i possibili beneficiari delle strutture SAI nel nostro territorio noi abbiamo dei SAI ordinari e una struttura SAI per persone diciamo con disturbi di salute diciamo così e quindi abbiamo queste due tipologie non abbiamo altre tipologie di accoglienza grazie dottoressa se posso presidente quindi noi abbiamo un CAS se ho capito bene e poi se ho capito male allora il numero di CAS non abbiamo il numero non abbiamo la definizione di quanti CAS ad oggi abbiamo sul nostro territorio mentre sul SAI riesco a fornirle dei dati precisi che sono appunto la presenza di sei appartamenti dedicati a SAI sui CAS non abbiamo solamente credo che Mondodonna sia un CAS o sbaglio? no sì Mondodonna è un CAS ok perciò non abbiamo solamente Mondodonna come CAS nel territorio? no in questo momento noi a noi risulta essere solo il CAS di Mondodonna quello che dice la dottoressa Raffini è che non essendo comunicazioni che pervengono a noi ed essendo una gestione diretta da parte della prefettura non possiamo escludere che ce ne siano degli altri che noi in questo momento non conosciamo non sappiamo e quindi riteniamo che in questo momento ci sia solo ed esclusivamente il CAS di Mondodonna che è quello che abbiamo visto e di casa Moccaite se posso io suggerirei ovviamente a lei sindaco di sentire dalla prefettura se è possibile anche di sapere se ci sono altri CAS nel territorio mi sembra il minimo che possiamo fare essere informati di quello che succede nel territorio le posso le posso assicurare che il livello di informazione che noi abbiamo ci attribuisce un solo CAS questo non esclude il fatto che domani mattina o tre giorni fa sia stato aperto un nuovo CAS dalla prefettura perché questo non rientra nell'ambito delle comunicazioni che la prefettura fornisce all'amministrazione comunale nella gestione così come avviene con le modalità SAI che è tutta un'altra procedura dal punto di vista della gestione però in questo momento l'unico CAS che noi abbiamo è quello di casa Moccaite bene grazie io penso che il primo punto è stato già affrontato se volete potete passare anche al secondo punto per quanto mi riguarda Presidente conduci tu la partita bisogna dettagliarlo perché da quanto capisco sì assolutamente allora il secondo punto richiesto dai consiglieri è quali e quante sono le cooperative che si occupano di accoglienza nel nostro territorio io credo che anche questo sia stato affrontato sinceramente sì proprio di sì perfetto il terzo invece è quanto si spende per l'accoglienza e se il comune partecipa ad esse e anche qui la dottoressa ci ha dato lume della della situazione non so se ci sia altro da aggiungere al riguardo ok però sinceramente io non ho sentito cifre ma infatti non è nel bilancio comunale perché non sono i cifre che ricadono sull'ente locale quindi quindi il comune non ha spese no va bene abbiamo un altro punto ovvero quanti appartamenti sono in uso alle cooperative che si occupano di accoglienza e dove sono ubicati anche qui direi che ci hanno confermato che ci sono sei sistemazioni sai e un casse l'ubicazione non è una formazione che possiamo dare insomma in mondo visione ecco la dottoressa ok perfetto poi abbiamo se tra i migranti ospitati nelle strutture del territorio c'è qualcuno che ha pendenze con la giustizia questo era il punto il punto 5 sì il sindaco allora anche in questo caso ovviamente la gestione non essendo una gestione comunale è una gestione che rientra nell'ambito di quello che introducevano prima eh l'assessore Bertagnoni e la dottoressa Raffini eh il sistema sai sono gestiti dalla dall'asp eh Bologna e quindi la gestione è da parte dell'asp il sistema CAS è gestito direttamente dalla prefettura quindi noi non conosciamo la eh come dire il casellario giudiziario di ogni singola persona che è ospitata all'interno delle delle strutture di cui ne rispondono e ne hanno accortezza ovviamente i gestori delle strutture e coloro che gestiscono le 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 strutture chiaramente essendo sistemi di accoglienza chi ha pendenze con la legge viene immediatamente eh gestito in una procedura che è quella prevista dalla norma in sé insomma e quindi da questo punto di vista con le modalità che sono previste in questo in questo senso lo dico perché non 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 esiste un database nostro relativo alle singole persone e al singolo ehm alla singola situazione del proprio casellario giudiziario insomma in generale diciamo così essendo che sono interventi di accoglienza non siamo in presenza di persone che hanno avuto condanne o hanno situazioni di questo genere qua perché altrimenti sono persone che o sarebbero agli arresti o sarebbero in procedure di espulsione o cose di questo di questo genere di questa natura questo non significa che come qualsiasi altra situazione di cittadini dei 12 mila e passa cittadini del nostro territorio qualcuno possa commettere dei reati questo è un altro è un altro tipo di di ragionamento ed è un altro tipo di procedura che viene adottata e su tutti questi ci sono anche i controlli da parte delle forze dell'ordine in modo particolare da parte dei carabinieri che hanno chiaramente la loro eh la loro verifica periodica che fanno con eh le strutture che gestiscono e con la prefettura per la parte che compete alla prefettura consigliere ministale grazie ma in realtà trovo strano però sindaco che eh anche per la sicurezza della comunità voglio dire il comune dovrebbe conoscere se ci sono fatti eh lei mi sta dicendo che il comune non si non si deve non si interessa non ho ben capito se eh ha delle informazioni che le dicono che questi fatti cioè queste queste se ci sono pendenze ovviamente eh con la giustizia di qualche migrante ovviamente eh lei non può venirlo a sapere perché non è eh un tema che interessa che interessa o che impegna comune a venire nella conoscenza cioè se ho ben capito ehm è così non c'è la risposta non so la io potrei accettare una risposta che mi dice eh non ce ne sono sì ce ne sono certamente non è che vada a chiedere eh che cosa è successo che cosa non è successo ovviamente però sapere se ci sono o meno ehm migranti con pendenze con la giustizia insomma sarebbe il minimo per il comune il sindaco allora i dati pubblici sono quando ci sono delle condanne e questo è un dato da cui occorre partire consigliere e vale per lei come vale per qualsiasi cittadino questo tipo di ragionamento quindi è pubblico il dato nel momento in cui esiste una condanna se ci sono altre procedimenti aperti o meno non riguardano ovviamente una notizia che abbia una valenza di carattere pubblico noi abbiamo accortessa di ciò che avviene abbiamo accortessa della situazione ma certamente non siamo detentori di informazioni che appartengono all'autorità giudiziaria non è che il sindaco conosce le situazioni del casellario giudiziario di tutte le persone di Granarolo o ha accesso a tutte queste informazioni quello che le posso dire è che essendo strutture che sono gestite con ehm ambiti di carattere pubblico e quindi attraverso procedure di eh controllo e di verifica qualora si verificano situazioni di questo genere di questa natura immediatamente vengono presi dei provvedimenti la persona di cui abbiamo discusso e di cui abbiamo avuto notizia sui giornali un po' di tempo fa è stata allontanata a prescindere dalle vicende di carattere giudiziario dalla sua situazione di carattere giudiziario è stata allontanata da quella struttura proprio in funzione di questo aspetto ovviamente e quindi questa è la modalità con la quale avviene la eh il procedimento è la procedura eh non è che il comune si disinteressa o non si occupa di questa di questa cosa qua il comune non ha eh non sono persone che sono seguite dall'amministrazione comunale e dai nostri servizi sono persone che nell'ambito di quelle che sono le procedure sono titolati sono affitti di appartamenti eh affittati da cooperative da associazioni da strutture che si occupano di questa materia che affittano da privati che affittano e che prendono in affitto gli appartamenti che gestiscono queste strutture nell'ambito dei controlli che competono a chi ha la funzione di di eh occuparsi di questi controlli e l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine non credo che sia una notizia che io debbo dare in questa sede e nella soprattutto nella commissione insomma da questo punto rivista allora il punto successivo il punto sette se il migrante indagato per l'episodio di violenza accaduto di recente è ancora ospitato nelle nostre strutture o se è stato spostato direi che questa informazione c'è presidente ci sarebbe sei anche se è stato sfiorato ma ci sarebbe punto sei sì lo vuoi illustrare lei? certo lo leggo se i nostri servizi sociali seguono direttamente le persone ospitate oppure tutto delegato alla cooperativa e chi li ospitano questo risponde la dottoressa Raffini che era responsabile del servizio? allora sì rispetto al punto sei come servizi sociali territoriali non seguiamo direttamente queste persone le persone sono seguite dal servizio sociale gestito da ASP Bologna ossia da ASP protezione internazionale che è il soggetto deputato nel sistema di accoglienza e integrazione a gestire questi nuclei i nuclei vengono diciamo eventualmente presi in carico laddove fossero ancora residenti nei nostri territori cosa che non non è sempre così può avvenire nel momento in cui termina il periodo di ospitalità all'interno del sistema di accoglienza laddove abbiano necessità quindi possono essere accompagnati in un percorso di uscita dal sistema di accoglienza e di diciamo così introduzione nel nella società normale quindi attraverso il reperimento di una posizione lavorativa di un alloggio eccetera alla stregua degli altri cittadini però non abbiamo un diciamo così una un rapporto con questi nuclei nel momento in cui sono in fase di accoglienza dottoressa anche se visto che lei parlava anche di soggetti malati ospitati ovviamente malattie che possono essere anche mentali ovviamente no anche in quel caso i nostri servizi sociali la dico un si disinteressano c'è nel senso non si interessano di quelle persone anche soltanto giusto per sapere in che queste persone insomma in che situazioni in che situazione si trovano il sindaco solo per precisare un aspetto non è che i servizi sociali si disinteressano perché le parole hanno un peso e visto che rimaniamo registrati si disinteressano significa che i servizi sociali si girano dall'altra parte e dicono non è di mia competenza cioè queste strutture sono seguite dai servizi sono seguiti da non sono in mano semplicemente nella gestione dei gestori del gruppo appartamento sono seguiti come veniva detto prima dal servizio sociale dell'asp bologna e dal servizio di protezione internazionale sono loro che hanno la responsabilità e la progettualità in capo alle singole persone con i progetti di inserimento i progetti di accompagno e tutto quello che ne consegue non è che intervengono altri servizi sociali dentro a queste procedure perché la cosa che è una cosa abbastanza ovvia da questo punto di vista ma è bene ribadirlo cioè nei progetti ci sono dei percorsi ben definiti che se intervengono altri soggetti dentro a quel percorso si genera semplicemente del caos della confusione e si generano dei problemi questo a prescindere dallo stato di salute della persona delle persone e dalle condizioni psicofisiche delle stesse poi è chiaro che se ci sono esigenze particolari e specifiche intervengono altre procedure altre modalità cioè se ci sono situazioni come potrebbero verificarsi come si verificano periodicamente sul nostro territorio in generale fra le nostre migliaia di abitanti se ci sono dei trattamenti sanitari obbligatori da fare se ci sono dei trattamenti farmaceutici e obbligatori da su cui lavorare ovviamente interviene la struttura medica la struttura sanitaria interviene l'autorità giudiziaria e in in ultimo interviene il sindaco nella sua funzione con gli atti che devono essere assunti e questo vale per qualsiasi tipo di situazione anche se devo dire questo lo posso tranquillamente dire non non mi risulta avere mai dovuto assumere provvedimenti di questo genere in strutture come queste perché chiaramente sono strutture che sono seguite e sono supportate da equip specialistiche che si occupano di questa di questa cosa e si occupano di quello che è la situazione e la progettualità che riguarda ogni singola persona la dottoressa raffini sì volevo solo rafforzare quello che già ha detto il sindaco in merito alla parola disinteresse nel senso che non è una questione di disinteressarsi delle persone perché non è non è assolutamente questo è semplicemente una questione di competenze quindi il diciamo queste persone per quanto riguarda tutto ciò che attiene al progetto di accoglienza sono in parico come dicevo prima ad ASP Bologna ma ci sono aspetti che diciamo riguardano ad esempio situazioni che non non attengono al loro status di rifugiati o richiedenti asilo o migranti come li definiva il consigliere ministrale prima ma semplicemente al loro status di cittadini rispetto ai quali eventualmente possiamo essere chiamati in causa faccio un esempio la somministrazione del farmaco a scuola se un bambino va a scuola necessità che venga somministrato il farmaco non il servizio sociale ma il servizio scolastico viene interpellato per far sì che vengano seguite tutte le procedure per la somministrazione del farmaco a scuola o altre cose simili quindi diciamo nel momento in cui queste persone sono sul territorio hanno vengono ci si interessa di loro quindi non solo come servizio sociale ma come ente locale a tutto tondo per tutti gli aspetti che riguarda la loro vita quotidiana il consigliere ministrale sì grazie comunque il sindaco non perde abitudine ovviamente di far la critica alle domande probabilmente ricordo al sindaco siamo in commissione e a noi spetta fare delle domande a lei se vuole ci risponde invece di girarci attorno magari insomma senza stare a ricalcare alcune frasi soltanto perché deve giocarci con le parole disinteressarsi non significava fregarsene significava che probabilmente altri soggetti si interessano di quelle persone malate tra virgolette ovviamente ciò mi riferivo sicuramente ai nostri servizi sociali quindi disinteressarsi non vuol dire fregarsene nel mio caso vuol dire che ci sono altri soggetti e quindi i nostri servizi sociali non interferiscono tutto qua non quello che che lei ha voluto precisare solo sempre sempre criticando le domande però va bene giustamente non sapendo quale risposta dare ovviamente fa la critica grazie il sindaco io per la verità non ho criticato una domanda ma ho criticato un'affermazione e ho precisato un'affermazione il concetto disinteressarsi è un concetto preciso e specifico che può essere anche tranquillamente visto in termini in termini puntuali sotto il profilo formale della cosa ma se la sua interpretazione è questa va benissimo ed è esattamente quello che quello che i nostri servizi oggi fanno e avvengono quindi l'ho semplicemente ricordato mi dispiace se lei si senta urtato dalla mia precisazione da questo punto di vista ma ritengo anche che così come lei ha diritto di fare le sue domande legittimamente io ho il diritto di rispondere nelle modalità e nelle forme che ritengo più opportuno per tornare all'ordine del giorno sono rimaste due gli ultimi due punti l'otto il nove e il presidente so che parte in parte il sette è già stato detto e risposto insomma perché parliamo del migrante diciamo indagato per l'episodio di violenza il sindaco ha già detto che non è più diciamo nel nostro in uno di questi nostri site ok però nella domanda c'è anche se ancora praticamente è nelle nostre strutture e va bene o se è stato spostato significa se è stato spostato in un'altra struttura oppure è stato ovviamente che ne so mandato via qualcosa del genere non lo sappiamo quindi chiediamo che cosa è successo per questa persona il sindaco a me è risulta disposizione dell'autorità giudiziaria bene grazie quindi la domanda numero otto non ha non ha se il suddetto migrante ha libertà di movimento nel nostro diritto o se è in grado di stato di fermo è in stato di fermo a questo punto la risposta chiedo è è a disposizione dell'autorità giudiziaria poi se in questo momento sia in stato di fermo in stato di arresto o meno questo è una cosa che riguarda il rapporto dell'autorità giudiziaria noi non ne siamo a conoscenza di questa cosa quello che le posso dire è che la struttura lo ha allontanato dalla propria struttura e quindi l'asp lo starà seguendo nel rapporto con l'autorità giudiziaria abbiamo un ultimo punto anche questo in parte coperto ma che andiamo a leggere oltre la cooperativa mondo donna quali altre strutture che ospitano migranti sono comunali nessuna nel senso che non abbiamo alloggi o situazioni di strutture che non siano quelle relative alle appunto alla struttura di casa mocaite a questo punto chiederei se qualche consigliere ha qualche domanda o riflessione anche per la dottoressa Raffini o se ovviamente il consigliere ministrale ha ulteriori domande o appunti no guardi presidente è stato risposto a tutte le domande che facciano parte di quest'ordine del giorno quindi io sarei a posto l'unica cosa chiedo alla dottoressa in separata serie ovviamente penso per via pec o a cos'altro insomma in qualche maniera e quindi la ringrazio insomma per questo non vedo ulteriori alla dottoressa Raffini certamente mi scusi siccome mi ha detto chiede la dottoressa ma non ha completato la frase per essere certa di aver colto correttamente la richiesta sono gli alloggi l'ubicazione degli alloggi giusto per essere certa di aver colto la domanda ok certamente dottoressa grazie consigliere io da parte mia non ho ulteriori il sindaco solo per non so se consigliere ministrale le sono stati dati i dati che lei chiedeva nella precedente commissione quando abbiamo discusso della nostra cra con la direttore presidente della dell'asp pianura est solo per dirlo anche pubblicamente visto che era venuta fuori la volta precedente e avevamo dato un'informazione rispetto ai mesi precedenti le posso dire che in questo momento all'interno della nostra cra ci ci sono 10 ospiti residenti di granarolo fra i 25 presenti in questi giorni all'interno della struttura e 8 residenti nel centro di urno fra i 9 che sono quelli che usufruiscono del servizio del centro di urno ovviamente come lei può ben capire sono dati che cambiano con anche una certa frequenza per evidenti ragioni diverse ovviamente fra la struttura di ospitalità e la struttura del centro di urno no sindaco in realtà non mi erano stati dati e quindi la ringrazio per avermele insomma comunicato lato mio personalmente non ho ulteriori richieste da fare credo che siano state date delle risposte puntuali a tutte le domande dell'ordine del giorno e se non ci sono quindi altri commenti o sollecitazioni io saluterei tutti quanti prima di tutto ovviamente i cittadini che magari appunto seguiranno indifferita la nostra la nostra commissione ovviamente un ringraziamento alla dottoressa raffini per la sua presenza e la sua partecipazione e gli assessori e tutti i consiglieri auguro a tutti buona serata buona serata grazie grazie buona serata grazie buona serata grazie buona serata grazie buona serata